L'impatto dell'influenza nel mondo è di oltre un miliardo di casi all'anno per un numero di decessi tra i 290.000 e i 650.000, ma i casi di influenza registrati delle autorità sanitari rappresentano solo la punta dell'iceberg. La ricerca con analisi di laboratorio della presenza dei virus influenziali viene richiesta. Infatti solo in pochissimi casi nel nostro paese i casi confermati di influenza ogni anno sono poche centinaia, ma i morti attribuibili all'influenza sono circa 8.000. Il motivo principale è che spesso il virus influenziale è in grado di aggravare le condizioni già compromesse di pazienti affetti da altre patologie, per esempio respiratori o cardiovascolari. In questi casi spesso il virus influenziale non viene identificato o perché non ricercato, perché il decesso viene attribuito a polmoniti generiche. Tra le complicazioni più conosciute dell'influenza ci sono quelle che colpiscono il sistema respiratorio, bronchiti, polmoniti, infezioni dei seni paranasali e infezioni dell'orecchio. E' anche noto che l'influenza può aggravare una serie di condizioni croniche sottostanti del sistema respiratorio, tra cui asma e BPCO, ma l'influenza è anche quello che si definisce un trigger per eventi respiratori e cardiovascolari, aumenta di 100 volte il rischio di polmonite, di 10 volte quello di infarto del miocardio, di 8 volte quello di ictus. Anche in adulti sani e a seguito di influenza le persone con diabete hanno un rischio triplo di ospedalizzazione, quadruplo di ricovero in terapia intensiva e doppio di infezioni letali. Il 65% delle ospedalizzazioni legate all'influenza e l'85% dei decessi correlati alla contrazione di questo virus riguardano principalmente le persone over 65. Prevenire l'influenza negli anziani consentirebbe quindi di diminuire il loro accesso al pronto soccorso a causa dell'aggravarsi dei sintomi, evitando così di esporli a ulteriori rischi come quello di contagio con SARS-CoV-2. Il modo più efficace di prevenire l'influenza e le sue complicanze è la vaccinazione. Il vaccino, come riporta l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è lo strumento più potente e appropriato per proteggere le persone fragili, quindi anche gli anziani. Fin dal momento della loro introduzione sul mercato negli anni 40 i vaccini anti-influenzali hanno salvato vite e limitato la diffusione di pandemie e hanno dimostrato di essere sicuri, efficaci e ben tollerati in tutte le fasce di popolazione. L'influenza è una malattia, è una banale influenza. Banale influenza non c'è la banale influenza, è una malattia determinata da dei virus influenzali. Virus che, guarda caso, mutano molto facilmente, cambiano, cambiano e ciclicamente ogni stagione, all'arrivo della stagione autunnale invernale, perché chiaramente sono virus respiratori che vengono, la cui diffusione è favorita dalle basse temperature, da un lato le basse temperature e dall'altro dal fatto che si vive in ambienti chiusi e quindi questo facilita la trasmissione dei virus respiratori, che si presenta ogni anno ad ondate epidemiche che alle nostre latitudini cominciano in genere a presentarsi nei mesi di novembre e dicembre fino ad arrivare ai picchi. I picchi influenzali sono sempre tra gennaio, febbraio, qualche volta marzo e qualche volta anche aprile. Però diciamo che gennaio, febbraio, febbraio, sono i periodi in cui si raggiungono i picchi dei casi di influenza. È una malattia che colpisce tutta l'età, anzi se vediamo noi i dati InfluNet, vediamo che i più colpiti sono i più piccoli, i bambini e gli adolescenti, perché sono quelli per i quali chiaramente le scuole favoriscono in qualche modo la diffusione e naturalmente, come dicevo prima, non è una malattia banale, perché basti pensare che in una normale stagione influenzale noi registriamo un eccesso di mortalità che è di diverse migliaia di casi. Cioè che vuol dire? Anche perché questa è una cosa interessante da dire, spesso non si comprende, dice sono morti per influenza quest'anno 400 persone, poi se ne sentono morti invece 8000. Bene, allora, quando parliamo di 800 persone, sono quelle che sono state ricoverate in ospedale, sono quelle per i quali è stata fatta una ricerca dei virus influenzali, si è trovato il virus ed è quello per cui, una volta che muore, dice quello è un decesso da influenza e quelli sono le centinaia di casi ogni anno. Poi però c'è un altro modo di misurare l'impatto dell'influenza sulla mortalità, che è quello di capire, ma se io ho una mortalità attesa di mille persone, me ne muoiono 9000 durante il periodo in cui circola il virus influenzale, allora posso legittimamente ritenere che quell'eccesso di mortalità sia dovuto alla circolazione del virus, ma è quello che noi vediamo, dobbiamo ricordarci tutti che cosa succede durante il picco dell'influenza, adesso dimentichiamoci per un attimo del covid perché poi altrimenti ci confondiamo, ma noi siamo abituati a vedere le file di ambulanze davanti agli ospedali, gli ospedali pieni, la paura, non si trova il medico e quindi tutti corrono in ospedale perché finiscono i farmaci, non si trova più un farmaco antipiretico, quella è l'epidemia della cosiddetta banale influenza, ecco perché banale non è, ed è quello che avviene. Sono virus che noi conosciamo prima, diciamo, perché circolano intorno al mondo e quindi noi sappiamo più o meno quali saranno i virus che arriveranno, l'OMS dà alle aziende farmaceutiche questi virus e le aziende producono il vaccino stagionale, proprio perché che contiene quattro di questi ceppi e che sono quelli che con molta probabilità poi saranno la causa dell'epidemia influenzale, diciamo dell'ondata epidemica nei nostri paesi occidentali. Quindi l'influenza non è mai banale soprattutto per chi ha altre patologie, per persone anziane? Sì, perché è un'infezione delle vie respiratorie che naturalmente è meno pericolosa nel giovane adulto, ma diventa molto pericolosa quando le difese immunitarie sono un po' più basse, tipicamente nell'età adulta, nell'età da anziani, diciamo a partire dai 60 anni e soprattutto anche dà delle complicanze molto gravi in soggetti che hanno delle patologie croniche concomitanti. Penso al diabete, le cardiopatie, l'ipertensione, le broncopatie cronicostruttive, ma sono tante quelle patologie che possono avere dall'infezione influenzale delle gravissime complicazioni. L'eccesso di mortalità lo vediamo soprattutto in queste categorie, ma l'influenza può provocare anche a sua volta ictus, cioè non soltanto le malattie croniche aumentano la possibilità di avere delle complicanze, ma la stessa influenza può portare a degli eventi acuti come l'ictus che aumenta in maniera considerevole durante appunto la stagione influenzale. Poi abbiamo anche un'altra categoria che deve essere protetta, che è quella dei bambini più piccoli. Da un lato perché ci possono avere, purtroppo anche se non frequentissime, ma ci sono degli eventi avversi molto particolari, degli effetti molto particolari nei bambini piccoli, soprattutto dai sei mesi a sei anni, e poi anche perché il virus circola molto, come dicevo prima, tra i bambini e quindi loro stessi possono essere untori della malattia nei confronti dei loro genitori, soprattutto i loro nonni. Poi ci sono delle categorie particolari, come dicevo, sono appunto quelli appartenenti a qualsiasi età con malattie croniche. Un'altra categoria fondamentale è quella delle donne in gravidanza. Il vaccino è fortemente raccomandato nelle donne in gravidanza, qualsiasi periodo, qualsiasi trimestre della gravidanza, perché può avere degli effetti molto gravi sia nei confronti della donna sia nei confronti del nascituro. Quindi, come stiamo vedendo, sono veramente tante le categorie. E avere vaccini efficaci e soprattutto sicuri contro questa malattia vende veramente difficilmente comprensibile come si faccia fatica ancora adesso a convincere la gente a vaccinarsi contro l'influenza. Perché avere, non avessimo il vaccino, vabbè, ci arrangiamo, ormai ne sappiamo qualcosa in questi ultimi due anni. Ma avere questi vaccini che hanno ormai una, nessuno può dire un vaccino nuovo, un vaccino innovativo. Sono vaccini nuovi perché cambiano ogni anno, perché cambia l'antigene, cambia il virus, ma i vaccini sono vaccini ormai di tecnologia consolidata che hanno dimostrato, come dicevo prima, sicurezza assoluta e efficacia molto molto importante. E quindi, nel salutarci, dottor Conversano, lasciamo un consiglio ai telespettatori di Pianeta Salute. Quindi, vacciniamoci. Siamo ancora in tempo per vaccinarci. La vaccinazione contro l'influenza ci dà, a distanza anche questa, come il vaccino contro il Covid, a distanza di 10-15 giorni, diciamo dopo due settimane, ci dà un'ottima copertura anticorpale, quindi ci protegge dall'influenza. Quest'anno, anche per chiaramente un po' di mantenimento delle distanze, l'uso delle mascherine, noi ci aspettiamo, l'influenza non è, non siamo ancora nel pieno della diffusione, ce l'aspettiamo sempre per gennaio-febbraio, quindi siamo ancora in tempo per vaccinarci. Chi non ha fatto ancora la dose di richiamo è invitato a fare la vaccinazione insieme. Togliamo anche questo dubbio. Il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità non soltanto hanno detto che si può somministrare la dose di richiamo Covid con l'antinfluenzale, ma che è opportuno che questo si faccia, perché i due vaccini in qualche modo non soltanto sono compatibili, ma possono anche potenziarsi a vicenda e quindi avere la possibilità di essere vaccinati. Non c'è bisogno di far passare 15 giorni, 3 settimane, un mese tra un vaccino e l'altro, perché stiamo parlando di vaccini che sono assolutamente compatibili. L'unica differenza è solo per il vaccino, diciamo, quello nasale, quello nasale per i bambini, che quello sia un tipo attenuato. Ma chi non ha fatto quel vaccino, quindi tutti noi adulti, corriamo a fare questo vaccino. I vaccini ci sono, le ASL e le regioni hanno tutti il vaccino. L'anno scorso ci siamo lamentati perché molte regioni avevano il vaccino. Quest'anno ce l'hanno, ma non andiamo a fare. Quindi una raccomandazione, cogliete questa occasione, cogliete questa occasione perché l'influenza purtroppo non è banale e quindi dobbiamo avere paura di questa malattia. Ma anche l'impatto economico dell'influenza è decisamente rilevante. Uno studio italiano a firma di Bertolani, Fattore e Pregliasco, ha stimato che nel periodo compreso tra il 2008 e il 2015, in media oltre alle 4.407 ospedalizzazioni per influenza, ci siano stati altri 15.206 casi di malati ospedalizzati attribuibili all'influenza per un costo totale stimato di 37 milioni di euro L'influenza è una malattia molto diffusa. Per molte persone non è una malattia particolarmente grave, ma per alcuni può esserlo fino ad arrivare all'ospedalizzazione per persone fragili e anche a un rischio di decesso. Quindi stiamo parlando di una malattia molto diffusa e che ha dei costi importanti proprio per questo motivo. Costi sulle famiglie, perché spesso l'influenza richiede dei farmaci da banco o altre terapie che non sono coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. Comporta costi sociali perché riduce i giorni di lavoro, perché la malattia spesso porta a non poter lavorare per alcuni giorni, nei bambini porta a una perdita di giorni di scuola, quindi con danno sull'apprendimento e ha dei costi importanti anche per il Servizio Sanitario Nazionale per quanto riguarda l'accesso ai medici di medicina generale, a volte agli specialisti per terapie coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e a volte anche addirittura per ricoveri ospedalieri che sono un po' la punta dell'iceberg dei costi sanitari attribuibili all'influenza. Quindi è una malattia importante da un punto di vista epidemiologico, ma importante anche da un punto di vista delle conseguenze economiche. Quindi chiaramente avendo a disposizione un vaccino che previene questa malattia in gran parte dei casi abbiamo a disposizione un'arma per prevenirla e quindi un'arma per ridurne sia il carico epidemiologico che il carico economico. Lasciatemi dire che questo è particolarmente importante in una fase come questa, in cui il sistema sanitario è particolarmente sotto stress a causa dell'epidemia da Covid e quindi se possiamo evitare di sovraccaricarlo ulteriormente con altre patologie prevenibili, questo è sicuramente un vantaggio per il sistema sanitario ma per la società anche nel suo complesso. Quindi professore, nel salutarci vogliamo dare un ultimo input ai nostri telespettatori che è importante vaccinarsi contro l'influenza. Lo ripeto ancora, forse c'è una sottovalutazione della gravità dell'influenza, in realtà invece non deve essere sottovalutata per i motivi che ho detto prima, il vaccino è disponibile, è un vaccino sicuro, è un vaccino economico e quindi l'invito è quello di proteggersi e vaccinarsi, sia per motivi di ragione sanitaria ma anche per motivi di ragione economica. Grazie a tutti.